b bella ragazzi sono tornato con un nuovo gameplay minchia occhi chiantata in scena proprio da un picazzo che ciò fa proprio schifo e in una mappa chiamata underground dove sto facendo una modalità uccisione confermata dove ho fatto 37 kill non 37 chi se sbaglio due o tre assist e 12 morti e sto usando un type silenziato che chi di solito uso molto molto frequentemente perché vabbè oltre che a sparare tre colpi alla volta mi sembra molto precisa e molto buona molto potente come secondaria uno scorpion silenziato perché stavo cercando di fare lo scorpion akimbo che è una delle armi immortali di sto gioco e come bonus di uccisione sto usando la cassa esplosiva si chiama così il bombardier st alt e il lancio d'appoggio che non ho mai capito come funziona perché c'è solo con me lui non spara boh o sono io che che dice che che non mi fa sparare oppure se c'è qualche tasto che cazzo ne so allora ragazzi se mi sentite un po' male perché sono tipo una settimana che c'ho un raff 2 della madonna e ovviamente sto sto andando in coma oggi fa un po' sboccavo in classe vi voglio dire del del mio problema quello del cioè io sono l'unico coglione che c'ha la vermedia e poi non riesco a caricare i video e caricieri a caricare i video da solo non ho ancora capito perché cioè perché li metto poi vabbè sti figli di puttana scusate di infostrada mi hanno abbassato i mega e quindi per questo io ho il problema di mettere un video ogni più o meno 5 giorni 4 giorni ed è questo il mio più grande problema perché in teoria dovrei mettere come avevo programmato almeno un video ogni 2 giorni e vabbè mi scuso per questo poi ragazzi devo dire che ho incominciato a imparare ad utilizzare photoshop cs5.1 e cioè devo dire che comunque in 4 giorni 3 giorni lo sfondo che ho fatto il bg che ho fatto cioè il bg del mio canale l'ho fatto io e devo dire che è veramente facile utilizzare e quindi adesso se ho anche un po' di tempo libero sperando ovviamente cercherò di fare anche qualche bg per qualcuno se qualcuno lo volesse ovviamente ma parliamo un po' di questo cane qui che gli ho sparto 3 colpi ma che cazzo di fucile a pompa è ma cos'è una nata vabbè qua questa partita ragazzi è un po' vecchia un po' tanto forse ma sto riutilizzando questa perché non ho la chiavetta c'è un mio amico e quindi era l'unico video l'unico video di call of duty che avevo salvato nel computer questo qui è un underground questa mappa l'avevo già utilizzata in palaz 95 che è il mio vecchio canale e la sto riutilizzando perché aveva fatto veramente schifo il gameplay nell'altro canale anche perché forse se non sbaglio era il primo qui oh dio se è dai cecchino di merda e quindi per questo sto riutilizzando questa mappa e adesso guardate qua lancio d'appoggio io non ho mai capito vabbè prima di tutto qui mi fotono tutto perché io ovviamente ho una fortuna che è veramente paurosa sentite che bella è perché ovviamente quando lo lancio gli altri le casse tutte loro le piglio quando lo devo lanciare io io piglio una cassa che ovviamente non è bombardier steel torretta robot predator no è uav quindi è proprio di lusso e poi ragazzi vi volevo parlare un po' di beh ma di sto layout di youtube ma che cazzo guardate qua piglio tutto proprio quando prendo il bombardier boom no il bombardier o l'uav quello cazzo si chiama quello più potente proprio scusate ragazzi ma sono un po' confuso perché sono appena tornato la scuola e non sto capendo un cazzo dopo che ho fatto una verifica di geografia che ho copiato tutto spero minchia se ho preso se è veramente mi metto a ballare e gli appoggio l'uccello sulla spalla della prof no dai scherzo ragazzi e qui sono riuscito a prendere e solamente giubbotto antiproiettili e battaglia terrestre scusate non mi ricordo più un cazzo perché povera vecchiotta e quindi niente ragazzi penso che volevo fare una mezza recensione su FIFA street perché ho visto che io da piccolino sulla play 2 se non sbaglio c'era gli altri tipi di c'era gli altri FIFA street e a me veramente quasi mi arrapavo con quelli tutti i giochettini tunnel la rabona veramente mi piaceva un botto allora ho detto ciao proviamo vado lì sullo store accedo provo scaricarlo 1984 megabyte 180 minuti ho detto allora ho già la linea di merda già stavo scaricando della roba in più stavo giocando in più mi si mette a scaricare qui il modem se ne va via da casa mia camminando e mi dice ma vattene a pigliando il culo e quindi non ho avuto scaricarlo anche perché 180 minuti la voglia non ce l'avevo e allora cercherò anche perché forse vado a comprarlo se riesco per un bel voto magari da qualche parte spero che mia madre mi ci porti a comprare sto FIFA street perché c'è proprio voglia di fare qualche numerettino visto che a calcio non ci gioco più perché mi sono rotto e quindi spero di fare un gameplay il più presto possibile su FIFA street qui la partita minchia è già finita ma c'era tante alte di quelle cazzate da dire vabbè ragazzi spero di mettere un video più presto possibile e bello ragazzi al prossimo gameplay da palaz ovviamente gameplay bello bello Grazie.